Si sposò per la seconda volta Quando Teresa si sposò per la seconda volta, visse a fondo la legge dell'ambivalenza. Lei così sobria, si era messa con un uomo alcolizzato e lei così onesta, con un uomo che viveva di espedienti. Vedeva il marito ridotto così male dall'alcol e per non farsi venire le lacrime, tirava un sospirone che equivaleva a un litro d'aria. Poi dei maestri immateriali seppe che, per la legge dell'ambivalenza, la vita di suo marito valeva esattamente quanto la sua, né più né meno. Vivevano in campagna e una mattina un dente cariato di Teresa intonò un inno di dolore, tanto che il marito fu costretto a condurla all'ospedale provinciale. Durante il percorso nella macchina entrò una vespa che per poco non causò uno scontro frontale. Teresa giunse in ospedale tramortita dal dolore al dente e dal terrore per le vespe. Dopo un'iniezione per calmare il dolore, la fecero sedere su una vecchia poltrona dalle molle gemebonde, rivestita di plastica sudicia, ma accogliente come un letto. Lì Teresa ebbe modo di riflettere a lungo sulle vespe e sul dolore al dente, nel quale per tante ore il suo essere si era esaurito. Alla fine ebbe la sensazione che non esisteva una reale differenza tra le vespe, il dolore, la sua vita e la vita del marito. Anche di questo ebbe conferma dalle guide. Commento. Cerchio NAF attraverso Paolo N. a cura di Mauro DM guida. L'individuo ha un id, un io, un sé e l'uno. Questo è lo spettro dell'ascesa. Secondo i processi di espansione e di contrazione, ci accorgiamo che l'id procura all'interno dell'entità un'espansione, perché deve usare una molteplicità di sensori, anima-gruppo. L'io invece procura una contrazione perché useremo un sensore solo, l'uomo, un solo elemento biologico organizzato attivo. Poi avremo un sé, che sarà una nuova espansione di tutti gli io che si concordano, superuomo, e avremo poi l'uno che sarà una nuova contrazione. Questo espandersi e contrarsi è la vita di Dio, il respiro di Dio. Perciò quattro momenti, id, io, sé, uno. Tre processi. Espansione, contrazione, espansione. Quattro più tre fa sette e quindi il numero energetico è completo. Nella contrazione, nell'uno, non si può parlare di vera e propria contrazione, perché ogni chicco nel pane riprende coscienza di essere chicco e quindi è soltanto un momento di perdita di coscienza della nostra individualità nell'uno. O meglio, è una tale presa di coscienza di essere un sé che ci fa sentire un uno, ma non ci si contrae. È un uno formato da unità non matematiche. Noi abbiamo espansioni e contrazioni fino all'uno. Nell'uno noi siamo la legge e la legge non ha mutazioni. Sono quindi tre le fasi e sono quattro gli enti. Id, io, sé, uno. Nel momento in cui ci rendiamo conto di essere sé, siamo già al di fuori del manifestato. Abbiamo visto che, nell'insegnamento del NAF, la parola id sta per identità disorganizzata. La parola è una estrapolazione dal pronome latino id, che nella forma neutra significa esso e indica appunto qualcosa di completamente impersonale, che non ha un'identità precisa. Per i maestri del NAF, quindi, l'id è l'entità che si incarna all'interno di più forme biologiche o minerali minori, usate come sensori che permettono il raggiungimento di un'evoluzione successiva. Un esempio dell'id è quando l'individuo si incarna in un'anima gruppo vegetale, all'interno di un bosco, o più avanti, quando prende possesso di una serie di animali minori, come gli insetti, che hanno però un'alta organizzazione sociale, come le api.